E' questa mamma, il papà Scigliettonino ci aiutia? Mi hanno chiesto se mi sto sposando, mi dico sì, mi faccio la sorpresa da sola Ci dispiace, sono di mezz'oretta e potrete rifiornare Grazie mille Non ce la possiamo fare? Forse i Meli si stanno tutti imbrogliati Andiamo di là, dai Ma direi niente, stai mi raccomando, tra poco arrivo nel silenzio Questa è una fase di raccomandazione Ehi, voi le misure da qui che ho la buona Sarà una cosa fare Guarda che è una sorpresa pure per te, sai? Davvero? Allora Mi fai fare la... Guarda, in televisione esci No, 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 torno Eee, a av'REmiti Eh, finalmente Sì, è un po' di fiori. Grazie. Grazie, veramente. Allora ragazzi. Scusate. Scusate. No, no, non ho capito. Ciao, scopo. Auguri! Oh, auguri! Scusate. Scusate. Fai vedere, vai! Devo aprire i pali. Si è calato. Vuoi dire cosa? Allora. Volevo trovare una foto di... A quello che verrà. Auguri ricco di felicità. Auguri. Voglio trovare una foto di... E' un po' di... E' un po' di... No. E' un po'. E' un po'. E' un po'. E' un po'. No, c'è il covid. E' un po' di... Solo per quello. Quando sono arrivato a qua. E' un po' di figliere. Yessere e pizze... E' un po' di figliere. Grazie a tutti.